Meglio, molto meglio la Lazio in fase di pressione Più compatta, più corta la squadra di Sarri Che poi costringe Napoli al lancio su Osimen Lobotka, Zelensky Altro pallone che non passa, Felipe Anderson Qui resiste anche al fallo, si crea lo spazio Felipe Anderson, il rimarchio di Luis Alberto Che lascia andare per Kamada Va a calciare! Kamada incrocia in maniera meravigliosa E la Lazio torna avanti